Come mai oggi siete qua? Tutti voi state protestando? Ok, la prima cosa che voglio dire, prima che comincia la domanda, io vi dico che la paura noi non ce l'abbiamo, la morte, avete visto quanti sono morti in mare, quanti sono morti in deserti, quindi la morte noi ce la affrontiamo ogni giorno, non abbiamo paura della morte, i pauri sono loro, chi reagisce con le armi, noi non abbiamo paura della morte perché abbiamo vissuto così. Da quanto tempo sta capitando queste cose qua in Italia? Allora, questi ultimi anni sta capitando ancora di più, le cose stanno ripetendo ancora di più. Come mai? Perché? Chi è secondo te che sta facendo questo? Chi è indietro questa cosa? Il governo è sempre indietro questa cosa, è il governo che è indietro questa cosa, inutile che si nascondano indietro questi banditi per spingere a fare queste cose, questi atti barbari.